Primi dieci giorni di saldi nelle marche, ma per i commercianti del centro storico di Pesaro si fatica a scorgere i riscontri sperati. Poca gente e pochi clienti non aiutati da un via alle vendite promozionali coinciso proprio con l'innesco della zona arancione che non ha aiutato l'afflusso nei negozi. È un anno un po' strano, un anno particolare, un anno molto molto difficile, quindi più andiamo avanti più le cose si aggravano di più. Già dopo il lockdown noi l'80% dei nostri clienti non li abbiamo visti e purtroppo con i saldi è andata ancora peggio, quindi non c'è nessuno, la gente ha paura, chiudendo le città non arrivano i nostri clienti che vengono da fuori, quelli che ci sono già qui hanno paura di uscire e purtroppo è così, stiamo andando sempre peggio. Onestamente ci aspettavamo di meglio, nel senso che i saldi estivi sono andati meglio, ma molto probabilmente perché venivamo da un periodo di lockdown e quindi la gente aveva voglia di uscire e c'è stato molto molto più movimento. Gennaio è un po' altale l'alte, nel senso che anche questa cosa della zona arancione, zona gialla, la gente magari non ha ben capito ancora come funziona, persone che magari i nostri clienti che abbiamo da Montecchio o Tavuglia ad esempio, che vengono comunque da fuori comune, non sanno se possono spostarsi. Noi a volte ci siamo incontrati a metà strada per poter fare le consegne anche a domicilio, abbiamo fatto anche questo, perché facciamo anche di questo, quindi insomma è un po' confusionare la situazione, non è andata malissimo ma ci aspettavamo sicuramente meglio. Ci ha aiutato sì molto il senso unico nel mese di dicembre, anche perché noi siamo in una zona, in una via secondaria, non siamo proprio via Branca o il Corso, che sono le vie che i pesaresi prediligono quando pensano al centro, vanno molto spesso lì, noi siamo in una via secondaria vicino al conservatorio e il senso unico è una cosa che a noi ci ha aiutato molto, molte persone ci hanno conosciuto e sono anche ritornate, stanno anche ritornando, quindi è stata una cosa molto molto positiva. Certi giorni si lavora e certi giorni no, ma si capisce il momento, quello che è. Cerchiamo di fare il più possibile, movimento social e quant'altro, però il periodo è quello che è, quindi tocca accontentarci. Il fatto che anche la zona arancione limita gli spostamenti non è proprio d'aiuto. Esatto, anche dei ragazzi magari da fuori che volevano passare in centro sono bloccati, quindi lavoriamo solamente in zona con gli interessati della città, in centro insomma. Quest'anno le limitazioni da pandemia nel periodo pre-natalizio hanno indotto la regione a posticipare il via ai saldi al 16 gennaio rispetto alla loro abituale collocazione in concomitanza dell'epifania. Una posticipazione non condivisa da tutti i commercianti. Purtroppo il nostro cliente è abituato al saldo dopo il periodo di Natale. Quest'anno la posticipazione dei saldi non ha portato i risultati dello scorso anno, anche perché si è venuto a creare la zona arancione proprio nel weekend dell'inizio dei saldi. Anche per le associazioni di categoria ConfCommercio e ConfEsercenti, il prolungamento delle vendite promozionali non ha aiutato una corsa all'acquisto in questa seconda metà di gennaio. I saldi sono iniziati il 16, le vendite promozionali si sono concluse il 14. Io chiedo in questo momento, da una persona tanto stupida non sono, fino a ieri facevo gli sconti e li continuo a fare oggi, non è che ci sia la ressa. Io speravo, noi come associazione speriamo sempre che il saldo sia la soluzione di tutti i problemi. In questo momento non credo che quest'anno lo sia perché poi la pandemia sicuramente ha agito come dissuasore. Abbiamo avuto le vendite promozionali fino al giorno prima dei saldi e per cui non c'è un riscontro vero sul, diciamo che siamo in pieno saldo da un mese e mezzo a questa parte. Quindi oggi che ci sono i saldi ufficiali, in realtà la maggior parte dei negozi, vista la situazione, hanno fatto sconti da tempo. Quindi non c'è il boom dei saldi.